Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio. Sulla A1 in direzione Bologna due chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla FIPILI due chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Lastra e Ginestra in direzione Mare e ci sono code per traffico intenso in uscita a Navacchio. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori code a tratti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla A12 per lavori fino al 21 marzo è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione sud. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del Bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del Cavalcavia. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!